allora tutti avrete visto sicuramente un opale come questo adesso io non riesco a farvelo vedere in modo chiaro perché vediamo se spostando la luce e illuminando lo meno vedete di più la pietra ma purtroppo il riflesso mi fa mi fa venire la pietra un pochino giallognola mentre l'opale sapete a questi colori un po variegati comunque questo è l'opale più conosciuto ho chiamato appare di velo guardavo anche se al buio lo vedevate niente questo è l'opale più conosciuto chiamate un palle di velo e lo paletti o per sostanzialmente quello bianco con tutti i riflessi che sembra una gelatina però sapete che gli opali esistono in tanti altri colori esiste l'opale di fuoco che è sull'arancio e esiste l'opale nero che ha dei riflessi verdi gialli eccetera eccetera esiste l'opale blu che invece è azzurro ma non è detto che l'opale deve essere non parlo di questo perché questo chiaramente resta così ed è così perché è un opale proprio il classico ma per esempio nell'opale blu come in questo caso potete trovare delle inclusioni di altri materiali che lo rendono particolare questo è un opale blu o azzurro che sia con delle stratificazioni vedete sul nero grigio ecco io trovo che queste pietre invece che le classiche pietre con l'opale blu tutto uniforme no quindi chiaramente tutto scuro tutto sul blu sia molto più bello perché una pietra così è un opale però rappresenta una particolare caratteristica della pietra quindi non si troverà mai un opale uguale a questo è chiaramente l'anello diventa un anello unico nel suo genere quindi quando si scegliono le pietre cercate di scegliere le pietre il più originali possibile con delle caratteristiche qualche peculiarità che non siano quelle uniformi classiche tipo appunto l'opale di velo cercate delle pietre un pochino più originali perché le avrete soltanto voi e appunto saranno una particolarità che non si troverà uguale in giro da nessuna parte quindi questo è quello classico questo è la variazione sul tema